Zaniolo si è trasferito. Quanto Roma raccoglie lo spettatore interessato all'accordo è la Roma. Che al momento non raccoglie nulla perché la formula è quella del prestito a 5 milioni con un obbligo di rimborso condizionato. Turkish Club afferma. Avrà 22 milioni e mezzo con ulteriori bonus che saranno 15 milioni. Il Club giallorossi sarà intitolato. In futuro. Al 20 sulla differenza tra prezzo vendita e prezzo di trasferimento. Quando e se trasferimento sarà. Definitivo. Roma. Quando si verificherà rimborso. Avrà 2 milioni garanzie a cui verrà aggiunta un'altra coppia. Zaniolo. Il saluto a Galatasaray attraverso il suo profilo sociale Zaniolo ha salutato Galatasaray. Pubblicando una foto con maglietta della squadra turca che la accompagnava dalla disseca quando ho. Sentito per prima volta a venire in Turchia. Tutti mi hanno detto qui le persone hanno un cuore enorme. Ma io non sapevo cosa mi aspettava. Ogni volta che entro nei campi dava all'anima per raggiungere l'obiettivo della mia squadra. Ma qui mi sentivo completo. Supportato e amato dal primo minuto. Oggi inizio da questa fantastica club e io non posso mostrare quanto sia grato di far parte di questa bellissima famiglia. Insieme abbiamo dimostrato che quando ti sei unito. Nulla è impossibile. La famiglia Lions ora fa parte del mio cuore e ti prometto che non lo dimenticherò mai.